Un concorso di disegno per sensibilizzare le nuove generazioni alla tutela e alla conservazione delle tartarughe marine per la protezione della natura e del mare. E questa è l'iniziativa promossa dall'Egambiente, dal Museo Vivo del Mare di Pioppi e dal Comune di Pollica, pronta a ripartire per il settimo anno. Il concorso è rivolto a tutti gli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado degli istituti scolastici della Campania, che possono iscriversi singolarmente in gruppi o classi con disegni, fumetti e illustrazioni. L'elaborato dovrà essere inedito e potrà essere realizzato con diverse tecniche di disegno, matite, tempere, acquarelli. In palio 10 borse di studio da 100 euro ciascuna per i primi 5 classificati. La partecipazione è libera e gratuita. I disegni dovranno pervenire presso il Museo Vivo del Mare di Pioppi e Pollica entro il 10 maggio 2018. Il nome del concorso è Tartarugando, la salvaguardia delle tartarughe marine.